Ok, adesso iniziamo a salire verso Centro America C'è una bellissima Nina Nana, traditional, di tantissimi anni, che si chiama Duerme Negrito che racconta l'istoria di questa madre che è andata a lavorare a una piantagione di tabacco e ha lasciato suo figlio vicino a una vicina e questa canzone è il racconto di questa madre che lavora in continuazione pensando quante cose potrà portare nel suo Negrito ma purtroppo le ripetazioni, grazie a Monsanto e a tutte le corporazioni esistono i pesticida, esistono i veleni e questa mamma non torna più nel suo Negrito ma purtroppo le ripetazioni, grazie a Monsanto e a tutti le ripetazioni, grazie a Monsanto e a tutti le ripetazioni, grazie a Monsanto e a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.